buongiorno oggi parliamo di lenti a contatto uno strumento utilissimo per tutti noi che usiamo gli occhiali e talvolta vogliamo magari invece non dover avere questo accessorio in più ne parliamo il dottor lombardo buonasera vogliamo sapere tutto sulle lenti a contatto nel senso possiamo usarle sempre vanno bene per tutti ci sono tra l'altro moltissime tipologie oggi di lenti a contatto quindi cerchiamo di capire anche come usarle bene quando e se appunto possiamo usarle sempre tutti sì chiaramente introduci bene il discorso l'elente a contatto non può essere utilizzata da tutti e deve essere il medico oculista a dare indicazione al paziente perché perché purtroppo esistono delle alterazioni della superficie oculare che controindicano l'uso della lente a contatto e queste tipo di alterazioni possono essere riscontrate in sede di una visita oculistica laddove possano essere indossate invece la lenta a contatto sicuramente un dispositivo che dà un grande beneficio alla qualità della vita di chi le indossa sicuramente ad esempio per un miope indossare l'ante a contatto significa non avere quelle immagini distorte del mondo quindi rimpicciolite che che l'occhiale invece invece dà però dall'altra parte è bene ricordare sempre che la lenta a contatto come il nome indica sta a contatto della cornea e della superficie oculare quindi non è esente da rischi sappiamo bene dalle statistiche che la lenta a contatto rappresenta la prima causa di pronto soccorso oculistico in italia ed è anche una causa frequente di infezione della cornea abbiamo un'incidenza di un portatore di intercontatto ogni 160 che induce una infezione oculare quindi non è non è non è un evento raro e in questi casi è necessario correre immediatamente dall'oculista per vedere quale appunto l'approccio terapeutico più corretto per risolvere la problematica parliamo delle varie tipologie di lenti a contatto come sceglierle allora la scelta si basa sul difetto ottico da correggere ci sono quindi le lenti che corregono l'amiopia l'ipermetropia oggi anche l'astigmatismo i materiali sono sicuramente molto più permeabili all'ossigeno rispetto ai materiali del passato quindi sono anche più tollerabili del contatto un aspetto che a cui noi diamo molta importanza è uso di lente a contatto o abuso di lente a contatto perché molto specie si dicono dottore quante ore devo indossare la lente a contatto diciamo che non c'è un numero magico perché è vero che questo dipende dalla tolleranza che ognuno ha a indossare la lente a contatto però è anche vero che portare la lente a contatto tutto il giorno per tutti i giorni della settimana non è salutare perché nonostante appunto i materiali siano migliori del passato comunque sia rappresentano sempre una barriera alla diffusione dell'ossigeno nella cornea che quindi soffre di questa ridotto di questo ridotto apporto di ossigeno e nel lungo termine ci sono delle alterazioni patologiche vere e proprie della superficie corneale che possono poi da una parte impedire al paziente di poter indossare la lente a contatto e dall'altra possono indurre dei gravi problemi alla vista stessa la salute degli occhi molte persone le indossano per fare sport sicuramente è molto comodo però quando si fa sport magari si suda anche quindi che tipo di accortezza levarle dopo come comportarsi sì nei casi specifici ad esempio portare anche indossare una banda di spugna sulla fronte può aiutare a ridurre il fastidio del sudore dall'altra parte però è anche importante che il paziente sia consapevole di quale è la sua tollerabilità all'uso della lente a contatto in caso di sport altrimenti è consigliabile indossare l'occhiale questo perché perché si possono avere delle problematiche proprio della superficie legale alla secchezza oculare o in casi un po' più sfortunati per la penetrazione dei corpi estrani sulla superficie che a contatto con la lente e la cornea possono indurre delle abrasioni corneali però niente esclude che appunto sul lente a contatto vengono indossati degli occhiali da sole per sport c'è un'età in cui cominciare a portarla per esempio i bambini possono già indossarle al di là che comunque magari ci vuole una certa accortezza però un bambino preciso e attento forse già è possibile sì sì ci sono diciamo casi estremi dove addirittura le possiamo fare indossare ai neonati ad esempio la miopia monoculare o altri difetti di post immatismi monoculari in questo caso è necessario farlo indossare per evitare l'ambliopia quindi l'occhio pigro e normalmente diciamo noi aspettiamo un'età in cui il ragazzo sia tra virgolette responsabile quindi attento all'igiene delle lenti a contatto e dei propri occhi oggi è vero che anche l'uso delle lenti giornaliere un po' ci aiuta a essere più prudenti in genere quindi da 14-15 anni il ragazzo può iniziare a indossare le lenti a contatto però come accennavo prima senza iniziare ad abusare delle lenti a contatto parliamo anche del rischio infezioni quindi che tipo di precauzione che tipo di attenzione si nel caso delle lenti a contatto giornaliere già di per sé il dispositivo è usato poche ore e quindi usato sterile riduce veramente quasi a zero il rischio di infezioni nel caso invece di lenti quindicinali o minzili o di quelle a più lunga durata invece è molto importante quello che è l'igiene delle lenti a contatto quindi utilizzare delle soluzioni adatte per la pulizia e la disinfezione delle lenti a contatto pulire le mani ogni volta che si indossa una lente a contatto e soprattutto dovesse succedere ecco di dover togliere la lente a contatto durante la giornata non usare qualsiasi mezzo per pulirla perché purtroppo ne abbiamo ascoltate e viste tante di problematiche legate alla scarsa eccene ma portare insieme a sé sempre l'occhiale quindi ricordare la lente a contatto non sostituisce l'occhiale ma come dicevamo all'inizio di questa nostra piacevole chiacchierata serve a migliorare la qualità della vita non a peggiorarla e quindi a innescare dei problemi gravi lenti a contatto e acqua acqua intesa come acqua della piscina o acqua del mare come comportarsi? sì in questi casi soprattutto al mare perché è molto frequente quindi in estate si riscontrava insomma da parte dei nostri pazienti come comportarsi e quello di indossare degli occhiali da sole sulle lenti a contatto nel caso diciamo di un tuffo in acqua e porre molta attenzione sul tipo di lente che si usa perché accade anche molto spesso di perdere la lente a contatto quindi il consiglio è portare con sé l'astuccio tutte le soluzioni disinfettanti e quindi mantenere la massima igiene in maniera tale che prima e dopo il bagno al mare non tra virgolette perdiamo né la lente né perdiamo di vista la salute dei nostri occhi in piscina possono essere anche utilizzati gli occhialetti da porre sopra gli occhi in maniera tale quindi da mantenere l'allenamento per lungo tempo senza però dover rinunciare a indossare le lenti a contatto un consiglio soprattutto quando ci esponiamo molto al sole con le lenti a contatto è magari quello di lubrificare più spesso la superficie quindi avere con sé anche delle lacrime artificiali questo può essere molto di aiuto abbiamo detto prima l'età in cui è bene iniziare a usare le lenti a contatto c'è anche un'età in cui è meglio non usarle più o comunque c'è un limite di tempo massimo in cui nella nostra vita possiamo usare le lenti a contatto quella è una scelta sicuramente che dipende da qual è l'uso o l'abuso che abbiamo fatto nel corso degli anni della lenti a contatto sicuramente portare la lenti a contatto tutti i giorni alla fine si associa a una riduzione degli anni in cui potrà essere indossata questo perché tutta la superficie sia congiuntivale che corneale si sensibilizza e si producono delle alterazioni anche di tipo patologico che poi impediscono di poter tollerare la lente a contatto è anche vero che poi con l'avanzare dell'età la superficie corneale e congiuntivale viene meno lubrificata quindi ci sono anche delle dinamiche tra virgolette di occhio più secco che rendono meno tollerabile l'indossare la lente a contatto però non c'è un'età diciamo limite oggi anche stiamo assistendo a nuovi tipi di lenti a contatto che riescono a compensare anche parzialmente alla presbiopia e quindi anche in età più avanzate rispetto al passato oggi osserviamo delle persone che sono contente di indossare la lente a contatto per tutti vale la raccomandazione principe mai abusare la lente a contatto bruttare con sé sempre gli occhiali e al minimo fastidio togliere la lente a contatto e se il fastidio persiste andare dal proprio medico curante per evitare che ci sia una complicanza che possa in qualche modo arregare un danno alla vista magari ogni tanto qualche giorno di riposo non ci sta male sicuramente dottore lo ringraziamo moltissimo abbiamo imparato molte cose importanti sulle lenti a contatto quindi sapremo come utilizzarle adesso grazie e buonasera a tutti grazie